guarda che bei denti che ho sono bellissimi i denti di un buzz anche quelli di ade se mi vido stacca un problema tanti le stac le faccio come vengono quindi tu puoi sapere quando finita poi sei e vuoi quindi io non vedo perché dovrebbe essere un problema cioè sei tu quello che che deve bussare bussare tu sei il tornado al contrario fatto di acqua l'acqua e fuoco poi che cosa ci rimane niente il sottosuolo che non è proprio il suolo il sottosuolo è sotto il suolo è una falda acquifera e te potresti essere il suolo no il suolo è ades io sono il sol più che il suolo è il solo forse andava più ma il progetto che ne ha fatto la fobia di tangato siamo ancora ho visto la fobia però vieni qua vieni qua vabbè lo vieni no buono 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 tanto sono in basso nooo tripla dio aspetta prova aiutarti no che non scappiamo la sega che scappia e assist su 3 io due perché sono morto 85 da per bussare cosa? 85 abilità diverse per bussare eh oh l'early a cuscino poco ci può fare le vendette la mi è piaciuta questa scimmettata via aiuto aiuto sono un sole aiuto c'ho un topo che mi insegue anche a me perfetto ok 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 sono un sole me lo hai distratto il topo beh non penso che potesse passare dritto sulle mie abilità non è non dispiace giocarla come magico anzi grande sakura si è già po' minchia esatto l'ha scritta a me ptub spero di no probabilmente si però perché l'ho stilanda non lo uccideva ma manco pagato l'ha scritta a me tanto tanto anzi lo abbraccio e gli dico sono con te nel dolore la tra un po' c'è il vulcan si lo so fammi diventare un sole allora nah l'ha scritto ma chi l'ha scritto ma credo a giampiero che gli ha fatto scherzo cioè ha usato la sua ultima file 2 kill ma non l'avrebbe mai uccisi lui da solo quindi ho già piero se usassi la mia ulti lì sai che bello strage che ci viene così si ma io no ma che cazzo ok grande che ne è beale va vinci a centrarmi oh il buff power i got the power tu 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 mi faccio il power non posso usare rata tosker bene vado cacarotto si chiama ravversario cacarotto un cacarotto oddio nei grandi partite belcosoli non possiamo permettergli di curarsi se mi stanno facendo fare il cazzo che mi pare to aia 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 e la scusa animi non ci sono ancora ok prendili è tornato sui minion scusi il termine fatto è che tu abbia voltato sui minion tutti le abbiamo fatte tutte 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 e lui niente no mi sa che uno la fa anche lui aia 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 anche ho usato la mia ulti se permetti vabbè anche ho usato la mia 2 oddio la 2 è una cosa l'ulti è un'altra ma la 2 è una ulti 9 0 3 1 3 tanatos su chi ulti adesso in base grande bello bello il mio stilaggio internazionale auto ma tutto mi stanno facendo fare tutto tutto c'è un bel po' di stacco rispetto alla nubis di prima con l'herpa è vero come personalità dei tizi già sono molto più tranquilli no non rompere i coglioni anche Ale che gli abbiamo stirato il mondo non ha rotto le palle certo e vabbè sta anche 12 io sono armadico ne faccio 10 un baz per assassino ne faccio 11 no attra un cazzo un cazzo ok muoviti a bua che vuoi vabbè li stiamo povnando vuol dire nooo i minion di merda avrei potuto fare una kill però così non c'è gusto cioè li stiamo troppo schiacciando magari si vede che con i matchmaking di prima hanno detto esatto molto più probabile è che hanno detto ma usiamo il matchmaking di Michele devo andarmene peccato che mi fermo sempre alla doppia perché sono sempre senza vita no mi vuole attaccare più g e ho capio morirei proprio un po' incoraggiante mi rendo conto di fare meno danno di prima perché ho messo il lifesteal però serve anche il lifesteal queste circostanze il lifesteal serve sempre più o meno basta non ci credo sotto la ulti altri minion che entrano grande no non sei così non riescono neanche a uscire dalla base ora guarda qui che bella che bella questa ultima fuori uff non ci credo no non ci voglio credere non ci voglio credere facciamo un'estima di power questo almeno faccio anche gold necessario per prendermi l'item che mi serve la sta morendo in realtà è un sebastiano sotto copertura ve lo dico io il sebastiano sotto copertura minchia faccio un botto di danno già fuggi vieni tanto sei hai fatto god life la pfff grazie comunque bancroft stallone no un po' eccessivo facciamo giusto cosa dove sono? ah fuori dalla base ok è un po' disorientante è arrivata una ulta comunque quel thanatos non è chissà che cosa per niente è riuscito a farsi uccidere da me e con questo ho detto tutto sorry guarda quanti minion ti prego è trashosa questa partita contro chi cazzo l'ha tirata quella ulti? la 15-0 gg 4-1 emozione si sente l'emozione nella tua voce Giampiero quasi tremante dalla gioia è